Ok, direttamente dal laboratorio di Jill Cooper andiamo a spiegare come integriamo e perché creo diversi integratori, perché sono curiosa. Ok, sono curiosa, io sono sempre alla ricerca di nuove cose per voi e le provo per innanzitutto su me stessa. Questa mi ha portato a questa articolazione sana. Guarda quanto è giallo, mi piace questo giallo. Lo sai perché è giallo? Perché ha dentro il curcuma, che è un antinfiammatorio eccellente, così aiuta a sfiammare l'articolazione e in parte anche la mia schiena, dall'altra parte mi aiuta le ginocchia, perché io corro tanto e abbiamo preso questo. Poi dopo che cosa faccio? Vado a prendere le mie proteine, i miei easy meal, che metto qua dentro con un nuovo prodotto che arriverà pieno di collagene. Il collagene va bene per le rughe, per la pelle e anche per l'articolazione, tutti insieme, che oggi dedichiamo una bella sferzata di cose sane alle nostre articolazioni. Poi andiamo a prendere una cosa banalissima, il nostro fiocchi di avena. I fiocchi di avena sono buonissimo per il corpo. Prendo questi, lo metto dentro il mio frullato e poi un'altra cosa che sto preparando per voi, si chiama Super Green Food. Super Green Food che è pieno di nutrienti, è come mangiare, non lo so, 5 piatti di verdure. Vedete quanto è verde? E questo lo sto anche questo creando per voi, perché è una cosa americana e qua non ce ne taglia. Ok, comunque, questa è la mia prima colazione. Adesso andiamo a frullare. Ed ecco il mio bibitone, super salute, i proteini. Ho perso, salmente salutare, ho fatto saltare anche la lama. Però comunque, questo è il mio super bibitone per voi. Proteine, verdure, collagene, macca, che altro ho messo? insomma, tutta roba sana per partire bene. Buona giornata a tutti. Domani parleremo di Omega 3. Ciao!